Bene, iniziamo risolvendo questi 5 rebus tratti dalla sezione chiamata vetrina di rebus. Bene, iniziamolo a questo. Dunque, AD è associata a Elica e qui notiamo sullo schermo del computer che si hanno questi file di Excel, i quali sono delle tabelle. Pertanto, la soluzione del gioco è delicata bellezza. Infatti, scrivendola si ha... Ecco, si ha che D viene dal fatto che ce l'ha indicato il gioco. Elica è l'oggetto associato a D, età, belle, sono queste due, e infine si ha ZZA, gioco risolto. Andiamo a quello dopo. In questo caso, leggermente più difficile ed è meno intuibile. Infatti, quest'uomo ha una pergamena nella quale si ha una specie di albero genealogico e a noi spetta a scoprire quale è il nome di questo discendente, il quale è figlio di Abriamo, Esaia. E il soggetto in questione è Isacco. Quindi, la seconda parola è ISACCORDI. Intuitivamente, noi si direbbe che la seconda parola, pertanto, è DISACCORDI. Ci manca la prima. Notiamo che queste due lettere sono associate a questi nomi. Questi, essendo antichi, per virgolette antenati, non esageriamo, detti in un altro termine, sono AVI. Quindi, otteniamo gravi, ecco, mi scrivo meglio, scusate, ecco. Quindi, otteniamo questa frase, gravi disaccorti. E quindi, riepilogando, si ha, che ha, queste due lettere associato AVI, ma questi AVI sono di ISACCO. Quindi, si ha AVI di ISACCO che, sommato a queste due mini parole, si ottiene questa frase. Andiamo al rebo successivo. Abbiamo che questa, questa donna, tiene dei pappagalli. Questi pappagalli hanno un nome specifico. Il nome al singolare è ARIA, ve lo scrivo. E, essendo due, quindi è in plurale, si ha ARIA. Quindi, la prima parola ha un verbo, all'infinito. Questo verbo inizia con la C e finisce con TITTIARE. E il verbo in questione è CHATTARE. Infatti, scrivendo la parola, si ha, C-H-T-T-A-E, si ha che C è quella che ci propone il gioco. A è dovuta al fatto che lei ha dei pappagalli, li tiene, sono suoi. Le due T, ce li propone il gioco, ed ARIA sono i soggetti in questione associati alle due lettere di TITTI. Successivamente, si ha che questa, mi piace definire la mini parola, è associato a questo albero, che si tratta di un perio. Quindi, scriviamo peri, e la O la distacchiamo, fra virgolette. Perché il gioco ci dice che la parola dopo quella che è il verbo, si hanno queste tre lettere, che sono queste. Infine, l'ultima parola è questa, qui. Si ottiene questa frase. Quindi, riepilogando velocemente. C è dovuto a lei. A è dovuto al fatto che lei ha dei pappagalli, e questi pappagalli si chiamano ARI. E prima del nome dei pappagalli si hanno queste due lettere, TITTI. Invece, queste due parole sono dovute al fatto che si ha un albero chiamato perio, e a questo oggetto è associata questa mini parola. RIE. E infatti torna con ciò che ci dice il gioco. Due parole di tre lettere, e una parola di otto lettere. Poi, andiamo a questo, vediamo questo gioco. Un po' più lungo, ma la difficoltà non è aumentata. Si ha che, queste sono delle oche, ma quante sono? Sono tre. Quindi, si ha tre, n, oche. Scrivendo tutto di seguito, si costruisce quasi una frase di senso compiuto. Cioè, l'inizio di una frase di senso compiuto. Che è, te, n, sì, o, che. Ecco. Una parte l'abbiamo risolta. Dunque. Che, ecco, la G. La G è associata a questo bambino che sta mettendo dell'olio sul pane. Lo sta, sì, lo sta spalmando. Ma, quando uno mette l'olio, unge. Quindi, G unge, I, in, che giunge, dunque, che G, G, I. Quindi, ecco, queste due, come se fossero, in questo caso, un caso speciale, un'unica mini lettera. Scusate, un'unica mini parola. Dopo, si vedono questi fumetti. Che, i fumetti si chiamano anche albi. Quindi, qui, avvicino, si ha una parola di due lettere, che finisce con al, e quella dopo finisce con b, avendo spessato albi. Quindi, continuando a scrivere, sia che giunge albi, intuitivamente, si può tranquillamente ipotizzare che questa parola è binario. Essendo un treno che giunge, giunge a, è su un binario. Quindi, senza inducio, scriviamo binario. Ultima parola. Di ben sei lettere. Questa, parola di sei lettere, è, dunque, binario l'abbiamo risolta. Abbiamo questa D e poi questa CI. Qui si ha la raccolta di poesie di Carducci, che si chiama Odi Barbare. Quindi è dodici. Piccola precisazione. Io, la parola binario l'ho tenuta in modo molto intuitivo, se vogliamo, in modo brutale. Ma c'è un senso al fatto che è quella parola. Perché qui, notate questa foto. Siamo in spiaggia di Copacabana, che è in Brasile. È una città famosa, è Brasile Rio de Janeiro. Ma a noi ci interessa solo la parola Rio. Infatti, Rio è proprio qui. Quindi, otteniamo questa frase. Beh, invece, l'ultimo gioco, che dal mio punto di vista è il più difficile di questa sezione di giochi di Rebus, e che mi ha leggermente impegnato, e mi ha messo a dura prova come enigmista appassionato. Infatti, si ha questo che sta bevendo un alcolico, e sta pensando alla sua ex, insomma. La soluzione che io ho apotizzato, e se vogliamo, azzardato, è... Dunque, lui sta bevendo, quindi scola, detto in modo molto griezzo. Quindi la prima parola è briscola. La scrivo. Invece, la seconda, finisce con TA, e io ho apotizzato che, dato che abbiamo due parole di tre lettere, e una di due, quella di due è TA, e invece queste due io ho apotizzato che siano con vin. Beve un alcolico, io ho apotizzato che sia del vino. Quindi, la seconda parola è CONVINTA. Pertanto, la soluzione da me, ipotizzata, è briscola convinta. Comunque, domani uscirà il numero nuovo, e vi dirò se quest'ultima soluzione è esatta. Vi ringrazio per aver prestato molta attenzione. Sono contento di aver proposto questa molto carina vetrina di Rebus, che sono riuscito a risolvere tutti, e ne sono... ed è una soddisfazione. Vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi, e ci vediamo al prossimo video, con molto entusiasmo. Ciao!